Il presidente della Regione Calabria Roberto Chiuto in una nota scrive Insieme all'assessore Tilde Minasi ho incontrato il prefetto di Reggio Calabria Massimo Mariani e i sindaci di San Ferdinando Andrea Tripodi e di Gioia Tauro Aldo Alessio per un primo tavolo di confronto sull'attendopoli di San Ferdinando. La Regione Calabria è pronta a finanziare attraverso l'utilizzo di specifici fondi comunitari lo sgombro e la bonifica dell'attendopoli di San Ferdinando. è la parallela installazione presso terreni di proprietà regionale di moduli abitativi non permanenti che potranno essere usati in modo temporaneo dai migranti durante i mesi di lavoro nei campi. Questa sistemazione, continua ancora il presidente della Regione Calabria Roberto Chiuto, avrà comunque nelle immediate vicinanze tutti i servizi necessari, gli uffici comunali e i presidi permanenti delle Forze dell'Ordine e dei Vigili del Fuoco. Stop con le tendopoli e con i campi, il nostro progetto è quello di realizzare una soluzione abitativa momentanea ma allo stesso tempo sicura e dignitosa. I partecipanti alla riunione ringrazio il prefetto e le amministrazioni locali coinvolte per l'attenzione e la sensibilità dimostrate. Si rivedranno a stretto giro dopo che gli uffici della Regione predisporranno una specifica scheda tecnica in merito alla fattibilità dell'intervento. Grazie a tutti.